Cronaca, un tentato omicidio ieri sera a Torrevecchia Teatina, un uomo di origini australiane ha accoltellato la moglie, la donna che a 50 anni è stata ferita nella propria abitazione ed è attualmente ricoverata in delicate condizioni all'ospedale di Chieti dopo aver anche subito un intervento chirurgico. La lite è avvenuta poco dopo le 22, sembra che la coppia fosse in crisi da tempo. Lui si chiama Roberto Salute, ha 56 anni e la moglie si chiama Marina ed è stata colpita due volte con un coltello da cucina all'addome e anche all'altezza della scella. La donna è ferita e sanguinante, è riuscita a correre al piano superiore dove si trovava la figlia, ha chiesto aiuto sul posto in via Colli 31, sono arrivati gli operatori del 118. Il marito in un primo momento è fuggito mentre la donna veniva soccorsa e trasportata in codice rosso alla Santissima Annunziata. Poco dopo l'uomo però dopo aver telefonato al suo avvocato si è costituito, si è presentato in caserma a Chieti raccontando l'accaduto, poi si è chiuso nel silenzio. Ovviamente è scattato l'arresto per tentato omicidio, nelle prossime ore sarà sottoposto ad un nuovo interrogatorio.